Lo storico e dirompente, per così dire avvallamento, abbandonerà finalmente l'asfalto dopo anni di presidio in via Roma-Taranto dove iniziano da oggi e dureranno fino a fine mese, il 30 giugno precisamente, i lavori di rifacimento dei marciapiedi e di consolidamento della sede stradale. La circolazione e la sosta interdette nel tratto di via Roma compreso tra Corso Due Mari e via Margherita. Contestualmente sarà invertito il senso di marcia in via Margherita nel tratto compreso tra via Roma e via Pitagora e di Corso Due Mari nel tratto compreso tra Corso Umberto e via Pitagora. Non sarà possibile parcheggiare inoltre anche su Corso Due Mari dalle 7 alle 17 con rimozione coatta nel tratto compreso tra via Pitagora e via Roma. A questo stesso tratto di strada potranno accedere solo i frontisti. Tutte queste disposizioni, previste da una specifica ordinanza del comandante della polizia locale Michele Matichecchia, sono state assunte per garantire il corretto svolgimento dei lavori preservando l'incolumità pubblica e privata.